un puntone o un punticino per il como della trasferta di benevento alla vigilia avremmo forse firmato per non perdere la gara in terra campana ma lo sviluppo del match ha poi detto altro innanzitutto che il come in questo momento è ampiamente superiore al benevento e poi quando si gioca 45 minuti in superiorità numerica la vittoria era un obiettivo possibile e alla portata ma il campo poi ha detto altro i lariani sono forse accontentati più di non subirlo il gol che di farlo rinunciando probabilmente a quel colpo che avrebbe dato una grossa fetta di salvezza e aprendo le porte un possibile approdo nei playoff ma va bene così la squadra ha comunque giocato l'ennesima partita quadrata subendo pochissimo e allungando le strisce positive tre gare senza prendere gol sesto risultato utile quinta gara in trasferta senza perdere non male davvero per una formazione che l'undici dicembre era penultima in classifica l'unico problema vero da risolvere ora è quello del gol dopo capiremo le cause di questo piccolo grande male sabato arriva al parma prima della sosta luca a tele pagelle 00 benevento e quindi anche ogni tanto è bello ripetersi lo facciamo volentieri molto bene la difesa ancora una volta diciamo sei e mezzo tutti i tre i difensori del como menzione ancora una volta pescaglia entra parte lagumina e entra simi ma il risultato sempre lo stesso nessun tiro in porta da parte delle due punte del benedinto per quanto riguarda il resto va anche detto che come non è stato pericolosissimo un tiro vero in porta con ceri uno dice già centrale insomma qualcosina si può fare più e meglio i cambi non hanno inciso molto appunto solo segnali incoraggianti da parte dice tutti i voti sono già disponibili e online sul nostro sito www.dario sport.it eccoci luca allora la domanda amletica che si fanno tutti in questi in queste 48 ore è un punto guadagnato sono due punti persi secondo te per me è un punto è un punto è un punto importante per la salvezza quindi tutto compreso salvo questo punto per quello che è il reale obiettivo di questa squadra poi analizziamo la partita come poterà vincere si quando giochi 45 minuti in 10 sì e ci ha anche provato secondo me per lo meno lungo con le sue scelte nel secondo tempo però comunque è riuscito va bene così anche questo punto anche perché arriva due partite non da poco sì ci metterei sicuramente un filo di stanchezza perché comunque in 14 giorni mi ha giocato quattro gare un viaggio a benevento che poi ha fatto in treno la squadra comunque sono anche viaggi che ti lasciano un qualcosa e poi abbiamo fatto poco comunque per vincere l'abbiamo fatto più per non perderla pur non 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 disdegnando di giocare in fase avanzata perché comunque come non ha mai dato l'impressione di arroccarsi no 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 quello mai però poco poco incisivi davanti e alla fine purtroppo il pareggio è quasi il risultato più giusto perché poi il palo l'ha preso benevento e quella espulsione sicuramente dettata da una sceneggiata di odenthal anche se poteva starci perché comunque il gioco pericoloso anche se non ha toccato odenthal potrebbe essere punito almeno con un cartellino giallo e quindi era secondo giallo giusto sì sì giusto c'è anche un altro episodio che riguarda full on c'è stato un intervento bruttissimo peggio sicuramente peggio di quello di che è ricostato secondo giallo liberamente non c'è stato un impatto col giocatore del como se non ricordo male era binks qui poteva davvero starci un rosso diretto però forse c'è stato un impatto non tremendo è arrivato solo peccato peccato però perché veramente quando poi giochi in dieci un tempo se il golletto arrivava erano qui veramente a festeggiare la salvezza dai diciamocelo chiaramente anche perché adesso dai conti dai calcoli ci servono ancora otto punti no 89 punti e quindi se se era un vi a parlare che ce ne mancavano cinque o sei o quattro era tutta un'altra storia per me ne mancano meno salvezza non si può sapere ecco comunque lei del lei è anche giusta no a lungo comunque la l'ha provata abbiamo finalmente visto anche una squadra trazione anteriore cioè abbiamo visto il como il como come potrebbe anche essere disegnato in futuro in certi casi e certo lungo ci ha provato questo gli va comunque dato atto ha tolto binks a un certo punto dopo l'espulsione di tell ha tolto binks ha inserito già parigini poi ha dato comunque spazio a gabrielloni e al cutrone alle punte fresche che non si può dire che non ci abbia trovato no è stata la mancanza degli giocatori che non sono riusciti o a saltare l'uomo o crearsi dopo ci arriviamo dopo ci arriviamo forse ecco l'unico cambio un po in ritardo e qui volevo aprire una parentesi il cambio di mancuso ancora una prova un po un po troppo a pratica per l'attaccante del como no si si aspetta sempre qualcosa in più onestamente credo che poi lungo l'abbia anche lanciato informazione titolare per una questione di minutaggio nel senso che nella settimana delle tre partite è quello che ha dato poco e niente quindi ci stava a farlo partire dall'inizio ci stava ci stava dopo però arriviamo lì un secondo alla questione attaccanti riguardo alle pagelle abbiamo fatto settimana scorsa i complimenti a scaglia e il fatto che lungo un certo punto abbia tolto binks quando è passata due e non scaglia fa capire l'importanza che ha questo giocatore sia nella struttura difensiva sia per per l'uomo nelle gerarchie poi sicuramente dei tre è quello che meglio si può interpretare il modulo 2 è quello che da ordine ecco e invece un giocatore che secondo me farà carriera adesso non dico che abbia fatto una gran partita ma per per la personalità i piedi che ha e anche la struttura fisica io dico cerchiamo in rosso il nome di da cugna perché ha delle caratteristiche che abbiamo sempre invocate cioè quello di saltare l'uomo adesso non ha fatto sempre la cosa giusta però comunque ha provato un po di dribbling ha provato un po di cross e ricordiamoci questo giocatore un 2001 è cioè un 2001 quindi è il più piccolo della rosa e secondo me ha una personalità che che verrà fuori alla stragrande ma di tutte le partite quella di benevento e quella che mi è piaciuta meno di quando è stato impiegato da pugna e lui a questa cosa qui che sottolinea almeno due volte l'ha detto già a lungo che era sicuro delle sue qualità offensive della sua capacità di gestire bene il pallone l'ha colpito invece la sua anche predisposizione a dare una mano alla squadra quindi in questo quest'ottica probabilmente anche in fase di non possesso per cui è anche in quest'ottica che lo stiamo vedendo utilizzato come mezza punta che sono spiegato bene lungo in fase difensiva in fase come dire più propositiva non si può vedere largo dietro del punto insomma è un giocatore che sa stare in diversi posti adesso arriva al parma e avevamo sei difidati ci è andata anche bene tra virgolette forse in questo caso anche almeno un paio era quasi meglio snellirli cioè per assurdo rinunceremo capitano bellemo la prossima partita e siamo curiosi anche di vedere come come si proporrà il combo senza bellemo tu cosa prevedi anche lo stesso da pugna probabilmente magari con un passo indietro potrebbe essere anche un'ipotesi no non credo e potrebbe essere magari l'ora del ritorno di fabregas tutto sommato è bellemo e fabregas sono due giocatori che possono però il recupero a palloni il lavoro che fa di recupero palloni di bellemo secondo me lì vedremo allora piuttosto un farago ti dico ti dico la verità magari rinunciando anche la parte offensiva e magari facendo insieme farago fabregas al rivo sicuro di disegnerà il centro campo per forza mister logo e quanto a bellemo famiglio di dire solo una cosa che è quello che gioca sempre il lampissimo turnover della settimana l'altro l'ha toccato e non l'ha toccato non neanche mai prima ovviamente perché quando se sta bene gli sta sempre bene gioca sempre e quindi è un giocatore fondamentale per l'ongola anche detto più volte ecco affrontiamo una questione invece secondo me comunque tre partite senza prendere gol cinque gare sei risultati utili consecutivi record di quest'anno e vorrei vedere anche non ce la siamo preparati questa ma tre partite senza prendere gol per il como è sicuramente un filotto che non abbiamo fatto tante volte negli ultimi dieci anni e quindi comunque anche questo è un plauso secondo me quello che mi ha detto nell'anteprima a sto punto la squadra c'è è strutturata e solida davanti secondo me devono dare un po di più i tre tenori gabrielloni a parte che è entrato secondo me bene un'altra volta gli altri tre devono dar di più perché il problema del gol nel como c'è soprattutto in quest'ultimo periodo che ne abbiamo fatto uno nelle ultime tre partite e io dico la verità adesso non mi piace andare contro i giocatori del como e non lo sto facendo ma lo dico quasi per il loro bene secondo me c'è r cutrone e mancuso devono dare molto di più ma lo devono dare di più anche per per la loro carriera cioè se come comunque una fase di passaggio alla loro età devono far vedere veramente che sono stati comprati per fare la differenza in serie b io di vedere cherry che fa sportellate tutta la partita con letizia che è alto 45 45 centimetri in meno di lui trovo assurdo che il gioco di cherry poi si focalizzi su questo cherry deve capire mentalmente che ha le possibilità per essere devastante lì davanti cioè cherry si deve concentrare perché ogni pallone che passa da lui arrivi alla punta e mancuso anche lui è stato preso ad agosto come uno dei tre migliori bomber della serie b non è possibile che mancuso gli abbiamo visto fare da settembre 5 tiri in porta sei d'accordo che devono un po a loro prendere consapevolezza in più nei loro mezzi sì no questo è fuori discussione però io credo anche che sia una squadra e covo che non cambia la faccia molto fatica a creare ad avere spunti il guizzo che poi può aiutare la punta ma sono d'accordo giustamente anche le punte se le devono cercate i guizzi dei cittadini non stanno arrivando quindi il problema non è solo delle punte però io penso che cherry se mentalmente si accorge che può essere più devastante negli ultimi 20 metri diventa potenzialmente un altro giocatore cioè non ci si può accontentare che cherry a 27 anni sia diventato quello che fa il lavoro sporco e basta perché cherry può fare tanto altro ma ne abbiamo gli esempi anche passati di giocatori che sono diventati devastanti sono passati da serie b adesso due nomi clamorosi sono vieri e toni vieri e toni non erano dei fenomeni a 18 anni lo sono diventati a 23 24 anni passando anche dalla serie b ma mi viene in mente un giocatore come diuric no che ha portato la serenità in serie a e ha fatto il suo anche in serie a ha giocato in serie c ha giocato in serie b a un certo punto mentalmente qualcosa di lui è scattato secondo me mentalmente qualcosa di qualcuno deve lavorare perché mentalmente scatti qualcosa anche in questi tre giocatori perché sono stati presi in serie b per fare la differenza non per fare il compitino per essere uno dei tanti facevamo prima l'esempio se ad agosto dovevi decidere tra mulattieri e caso o cerri e mancuso cosa avresti scelto e forse ancora ancora ora c'è non è possibile che il bari con antenucci che c'ha 38 anni sia più pericoloso e sia sia davanti a un cuomo che ha tre giocatori così questo è quello per cui il como secondo me deve migliorare per fare uno step superiore ormai magari è tardi è perché ormai la stagione volge al termine però non sono contento dal dalla prova in tutta la stagione di questi tre attaccanti secondo me non è una critica è anche un dovrebbero essere loro mentalmente a sbloccarsi per essere ancora più decisivi ecco prossimo avversario il parma giusto e qui è un altro bivio comunque perché quello che abbiamo perso a benevento potremmo recuperarlo nella partita di sabato cosa dici innanzitutto chissà se finalmente ci sarà questo duello che va avanti simpaticamente ovviamente sui social tra fabregas e buffon insomma si punzecchiano in maniera molto evidentemente molto sportiva e simpatica su instagram se non sbaglio quindi già un piccolo tema una partita nella partita vedremo se riusciranno i due giocatori così esperti a incontrarsi e poi c'è questa questo parma che non decolla mai no perché un campionato sono andata vedere una statistica clamorosa il parma da ottobre non ha fatto più di due risultati utili consecutivi siamo clamorosi abbastanza clamoroso insomma una rosa importantissima anche quest'anno una bella squadra non sempre gira bene pari risultati clamorosi no contro le mariotole big del campionato si sfalda sotto le ultime le ultime insomma nella squadra un po un po particolare ma beh resta comunque una gran bella squadra ed è un bivio è un bivio per loro che devono consolidarsi in zona playoff perché ci sono dentro ma sono lì lì ecco un bivio per loro e un bivio per il comodo insomma una bella vittoria casalinga non vorrebbe venire tanto magari preparare bene la trasferta a venezia che l'ultima importantissima forse in chiave sconti diretti salvezza insomma la cittadella ma l'ultima e spera che i giochi siano fatti no quel punto sia per il comodo non male anche perché poi ci sarà la pausa e quindi magari finire con il risultato positivo questo secondo ciclo stagionale non sarebbe male bene dai vabbè dai ci siamo ci siamo e ce la giochiamo e la distanza per il momento di sicurezza e ripeto io tra benevento e como visto un abisso comunque sia di rosa che sia di qualità quindi i valori stanno venendo fuori quando ho anche cambiato tre allenatori evidentemente qualche problema certo ciao a tutti forza como sempre ciao